Ciao a tutti, eccomi qua con il Detective Book, con i libri gialli che vi avevo promesso. Ho deciso di iniziare da Agatha Christie, La morte nel villaggio, è del 1930, è il primo romanzo in cui compare Miss Marple. Miss Marple è picciona, pettegola, prende il tè con delle amiche che a loro volta sono pettegole, è una macchietta ancora, però arriva sempre alla conclusione, arriva a capire in essi. Pensa male sempre, è disposta sempre a pensare male, ma questo la porta a scoprire l'assassino. Altro testo che invece fa ridere ed è di 11 anni dopo, sempre con Miss Marple, c'è un cadavere in biblioteca, questo è davvero gustoso, io l'ho trovato veramente divertente, complesso, ci sono dei bei personaggi femminili che nella loro apparente leggerezza sono concreti, sanno arrivare al dunque, mentre gli uomini sono poco più che dei fantocci che vengono in qualche modo manipolati da queste anziane signore. Nel prossimo incontro vi parlerò invece di un autore contemporaneo, ovviamente tutto un altro tipo di storia e di thriller. Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti.